sono microfoni che vanno usati insieme, tipo Rode e li rendete nascene presto ancora vicino, vicino sempre più vicino, sempre più vicino sempre più vicino e di nuovo sempre più rontano buonanotte sogni d'oro sogni d'oro questo video è stato gentilmente sponsorizzato da HelloFresh HelloFresh è una box che vi arriva settimanalmente con degli ingredienti per tre o più ricette che voi scegliete ogni settimana sul loro sito vi basta scegliere le ricette che desiderate provare la settimana successiva ci sono scelte tra vegetariani con carne e con pesce e mi arriveranno a casa tutti gli ingredienti freschi per prepararlo mi piace tantissimo questo servizio perché mi permette di non pensare a cosa cucinare ma comunque di cucinare qualcosa di svizioso e di diverso magari qualcosa di etnico o anche un piatto italiano che non avrei mai fatto perché non avevo voglia di comprare quell'ingrediente particolare perché non avevo mai sentito parlare di questa ricetta e rende veramente il cucinare un piatto buono e comunque ricercato ecco con tutto un equilibrio di sapori particolari che stanno benissimo insieme senza sbatti se avete gli ingredienti avete la ricetta avete le porzioni già fatte e vi basta solo seguire i semplici passaggi e impiattare non può essere carino se volete sorprendere qualcuno se volete provare dei piatti nuovi dei sapori nuovi è veramente bello come servizio e io non vedo l'ora di ricevere la prossima box ogni volta e veramente sono super contenta e super curiosa di provare le ricette che scelgo e ovviamente le scelgo vegetariane e io ho anche un codice sconto per voi che è ChiaraSMR65 ve lo scrivo qui ve lo scrivo giù in descrizione che vi da fino a 65 euro di sconto sulle vostre prime tre box vi invito a cliccare sul link che vi lascio in descrizione per scoprire che ricette, che piatti, che gusti vi aspettano la prossima settimana infidatevi è veramente un servizio troppo bello che da troppa soddisfazione io ringrazio anche CarloFresh per aver sponsorizzato questo video e partiamo subito ciao 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 grazie ciao 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 anche voi mettete mi piace questo video se vi piace questa idea se ne vorreste vedere ancora così e in realtà cominciamo subito faccio questo video anche per me uso questo video come scusa per riutilizzare questa splendida prova perchè non lo usavo da un sacco di tempo e mi mancava un sacco quindi ho dato un taglio per riutilizzare riutilizzare perchè ha comunque una qualità assurda è fantastico scuola questo è un sacco di tempo l'occhio di tempo ma la cosa che vorrei per fare un sacco di tempo per fare un sacco di tempo l'acqua di tempo spero vivamente che vi vadano entrambi i lati delle cuffiette altrimenti preta sarà solo una chiara e non due si vedi Sì una piesta luce mi ha visto un ruolo strano da una parte e dall'altra no spero di non parlare contemporaneamente con l'altra durante il corso del video però ti ricordo che adesso mi piace questa questione importante di scordare di mettere un ruolo che mi piace e se vuoi commentare la frale da V2D è stata più brava in questo video quella con l'ossetto quella verde e l'ho comprato quella con i capelli legati, quella con i bellissimi sciolti mi direi che quella della verde è simile in realtà non lo volevo proprio così, spero che adesso suona leggermente migliore però praticamente quando sono andato a cena fuori un mese fa o un paio di mesi fa e ho notato che il coprifettiglia per tenere fredd alla bottiglia di quel ristorante faceva un suono stupendo e allora ho detto vabbè compro questo oggetto per il canale ma non sapevo bene quale scegliere da un sito e vabbè in realtà aveva un suono carino però me lo aspettavo meglio e allora ho detto vabbè in realtà e ho fatto un po' di solito per evitare un po' di solito in questo video sono solo particolari quanto verrà mancato questo microfono tra l'altro oggi, che con voi sarà ieri si ho comprato altri due microfoni diciamo un altro paio di microfoni sono microfoni che vanno usati insieme tipo Rode e li rendete in azione presto non so come dire mi servivano da un po' ma ve lo spiegherò nel video test di quello che faccio prima non so come non so come ovvi questi suoni diversi sulle orecchie ti meriti di riposarli un pochino di prenderti in questo momento per te te lo meriti te lo assicuro ora ora vado a utilizzare questo barattolino tutto tutto che fai chiuso subito e vado a fare il il tapping sul tapping sul tappo sul fondo quando il fondo è senza acqua ha questo rumore quando il fondo è con l'acqua non so come 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 teplo, teplo teplo teplo, teplo, teplo 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 cambiamo il nostro corso gratuito è un po' di più non sono sicura che ci sia questo drinker o questo microfono devo scegliere, ho talmente tanti argenti che l'azienda potrà fare delle acuto come suona, lo saprei? ditemi quando è troppo altruppi sto cercando di essere il più delicato possibile e uno scuolino il canone, il canone, il canone e un'acqua brava un canone e un'acqua brava e un'acqua brava and then a little bit of a little bit of a wall è che se stasera forse voglio intendere di ordinare le poche ma per registrare un video eating dopo un sacco di tempo e parlarvi un po' delle serie di poche che ho visto in questo periodo e adesso lo pensiero mi mi ha fame comunque sono lì in sette di sera quindi ci stanno da pranzo meglio buonissimo perchè ho fatto cazzo alle 11 e quindi a pranzo avevo fame e poi ho presunto solo un caffè notte e adesso provo anche il vino attese sp balance attese might stuple stuple tipo 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 e ancora vicino a vicino sempre più vicino e di nuovo sempre più lontana vicino 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 la 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 la... la vechi la vechi vechi la vechi la vechi yes l'aila 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 ti rilassi 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 va tutto meno siamo qui per te per te per rilassarti per calmarti per farti dormire per farti dormire per farti dormire adesso ho fatto una stasorchino che ho fatto dall'altra parte quindi mi annontano mi annontano mi annontano mi avvicino mi avvicino mi annontano mi annontano mi annontano mi annontano l'articolo, l'articolo, l'articolo 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 e avvicinami lontano e cominciamo a chiudere gli occhi piano 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 chiudere gli occhi piano 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 comeciamo a chiudere gli occhi con le alli ducati piano 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 molto bene molto bene molto bene molto bene molto bene a tutto bene perchè ti chiamo che siamo molto e ci sono e qui il numero 3 che è che è che 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 ora rilassa il nostro presso così che 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 si attaccata al palato vuol dire che sei in tensione quindi di lascia andare il mio stomaco continua a fare versi girare la spalla si sta reclamando il cibo possibile la schiena 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 qui del mio occhio comienzo a chiudere il mio occhio qui ha unico il mio occhio qui ha un tecchio di rilassare il mio occhio il meu occhio nella od humano e kio 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 nel occhioing nel occhio all'occhio e rilassare le occhio che occhi, che occhi, che occhi solo, 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 solo la mia voce, le nostre voce che vuoi? che vuoi? che vuoi? che vuoi? questo suono ricorda un pochino quel gruppo di russa, sentitelo con i robicoli con i robicoli che vuoi? che vuoi? che vuoi? che vuoi? con le mani, rlassa le dita lascia andare il bacino provato la posizione qui il bacino grande rilassato rilassato le camere ben ricordato di questo video una nicoletta per aver guardato che in caso del suo tempo poter farlo che con i piedi suoi sempre molto buone grazievi se vuoi anche di andarti sorrisi di questo momento per te, per te, per te le sopparli perché con il riposo nel nostro pezzo puoi fare un buon lavoro, se vuoi fare un buon studio puoi fare qualcosa ma tu viene questo è il mio schieno a riposo papà te lo faccio ricordo che lo vedo io penso proprio penso proprio ma proprio proprio si è aggiunta l'ora va a passare le luci e a curare una buona buonanotte 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 sogni duro sogni duro buonanotte 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 e legano 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 i miei lipponi pasticcini al cocco un bazzone che rispero